È stato buffo ascoltare la scrittura di Petito tradotta in leccese o in brindisino piuttosto che in conversanese o nei vari dialetti che i ragazzi portano con sé, che parlano ancora. Dopodiché, dopo questo momento legato alla traduzione del testo e alla lettura di queste traduzioni, si è passato ad una fase di lavoro in piedi, di scioglimento del corpo e quindi di piccole improvvisazioni legate ai personaggi della scena in questione scelta, che erano D'Olliborio e Fausto, D'Olliborio che interpreta il diavolo. Quindi si è provato a mettere sui visi, sui volti dei due personaggi una maschera. E abbiamo visto che nella scrittura di Petito una maschera come quella della Commedia dell'Arte aiuta e stranamente coincide e favorisce il racconto che Petito fa. Quindi non entra in contraddizione, perché la scrittura parodica di Petito favorisce e permette l'uso della maschera della Commedia dell'Arte. Si vede, si leggono i caratteri in maschera, che però appunto nella scrittura di Petito non sono in maschera, ma attraverso queste improvvisazioni abbiamo visto che è possibile trovare una relazione tra le maschere della Commedia e la scrittura improvvisa di Petito, anche se non si tratta di una scrittura legata alla Commedia dell'Arte, ma che sicuramente risente di quella tradizione lì anche.